ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video mi avete chiesto come copiare tutti i file mp3 dal disco locale c a un altro volume con un file batch quindi copieremo tutti i file mp3 di tutto il disco cartelle sotto cartelle qualsiasi mp3 si trovi nel disco andremo a copiarlo la spiegazione di questo file batch ve la spiegherò in un altro tutorial perché come vedete per chi non è molto esperto è abbastanza complesso quindi io l'ho messo un po come vedete ho messo degli spazi per chi già si intende di batch potrà capire bene o male tutti i comandi che ho messo per gli altri come vi dicevo faremo il tutorial farò il tutorial con la spiegazione di tutti i comandi e le varianti che possiamo mettere anche perché possiamo modificare migliorare questo file batch anche facciamo doppio clic sul file batch apparirà questa finestra seleziona la sorgente da dove vogliamo copiare i nostri file mp3 io per dire voglio copiare tutti i file mp3 che si trovano nel disco locale c clicco qua sul disco locale c e clicco su ok questi qua sono solo messaggi di suggerimento ragazzi quindi voi dovete lavorare solo qui scegliere l'origine e la destinazione ora ci chiede la destinazione io scelgo desktop così ve lo faccio vedere voi potete scegliere un disco esterno dove volete potete copiare i file potete creare una cartella io clicco su crea nuova cartella gli do un nome metto file mp3 copiati da c potete premere invio oppure cliccate in un punto vuoto così si salva e poi cliccate su ok non cliccate direttamente su ok mentre ancora selezionato in blu perché a volte non lo salva c'è un po c'è questo bug diciamo a volte va a volte no quindi cliccate in un punto vuoto così si è salvato cliccate ora sulla cartella cliccate su ok e qui si riempirà la cartella con tutti i file mp3 del disco locale c e delle sottocartelle quindi tutto il disco completamente file copiato fa il copiato fa il copiato qui si sta riempendo al termine si aprirà la finestra della cartella dove abbiamo copiato i nostri file mp3 ecco qua quando si apre questa finestra la copia è completata se vedete un file con il dollaro davanti questo qua è quello del cestino potete fare cancellarlo un'altra cosa se per dire usate questo programma avete il cestino pieno vi consiglio di svuotarlo perché andrà a copiare anche dal cestino i file mp3 quindi vi consiglio di svuotarlo potete convertire questo file batch in file exe nel video precedente ho mostrato come fare quindi per la spiegazione ragazzi la vedremo in un altro video perché veramente se no si fa troppo lunga e per chi volesse sapere solo come copiare i file mp3 con un file batch questo è il metodo bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale io vi saluto ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao